Che è successo? Tonino Cipriani ha tornato il numero uno. Ti stanno cercando dappertutto, Tonino. Io e te non ci siamo visti. Tu non te ne puoi andare. Sei l'uomo del destino. Questa è una terra sacra. Prima, qui. Era piena di praterie. Stava piena di bisonti, così. Quando una femmina la tiene sotto il tiro, fai scivolare la mano. Piano, piano. Piano, 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 piano. BOOM! Tu mi devi venire a prendere, perché io ho paura. Il grande spirito vuole che aiuti l'uomo del destino. Una missione. Una missione. Su, sei quello che si è rubato tutti i soldi. Dove l'hai messo il borsone? L'ho nascosto. Senza borsone? Niente destino. Lo sai che cosa ha detto il tuo roseduto agli ienchi? Quando i fiumi saranno asciutti e gli animali estinti capirete che non si può mangiare il denaro. Tu da dici a tuo roseduto che non capisci nulla. Grazie a tutti.